Milan e Inter è un derby sempre molto particolare, è un derby che da una parte e dall'altra porta ovviamente una montagna di odio sportivo però molti calciatori e molti allenatori sono stati da una parte e dall'altra dei navigli oggi in questo video andiamo a vedere 5 allenatori che hanno allenato sia Milan che Inter ma prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete fatto, a lasciare tantissimi mi piace a ricordarvi che i video su questo canale escono alle ore 17.35 fatemi sapere qua sotto con un commento se vi ricordavate tutti e secondo voi qual è stato tra questi il migliore che ha allenato sia Milan che Inter detto questo noi partiamo subito 5. Leonardo lo conosciamo, è stato un giocatore fondamentale per il Milan ovviamente quando ha militato dal 97 al 2001 e dove poi ha chiuso la carriera prima di entrare in dirigenza ma da allenatore la storia è stata completamente diversa è il 31 maggio 2009 e Andrea Galliani in diretta televisiva annuncia che il nuovo allenatore sarebbe stato Leonardo è strana come decisione, di solito questi allenatori dal Milan vengono presi semplicemente per tappare un buco e arrivare a fine stagione e invece no, il Milan di Carlo Ancelotti va a Leonardo per due anni, il suo debutto ufficiale avviene il 22 agosto del 2009 e adesso vi sfato un tabù perché il Leonardo Rosso Nero allenatore del Milan non ha fatto malissimo quell'anno il Milan ok farà prestazioni alta allenanti, alcune vittorie importanti, altri sconfitto pareggi molto deludenti e cocenti però devo sottolineare e ammettere come il Leonardo allenatore del Milan il primo anno centrò la qualificazione diretta in UEFA Champions League quindi senza passare dai preliminari e sconfisse per la prima volta nella loro storia il Real Madrid al Bernabeu vincendo 3 a 2 addirittura l'ultima giornata di campionato sconfisse la Juventus 3 a 0 ma la cosa ancora più sorprendente è che quella di Leonardo era un calcio nuovo, un calcio 4-2-4 che venne chiamato 4-2 fantasia era il calcio che Telesantana con misterio tecnico della nazionale brasiliana ai mondiali dell'82 e dell'86 portava 4 difensori, 2 centrali e 2 terzini, 2 mediani e 4 giocatori completamente offensivi, 2 ali e 2 punte qualcosa di impensabile e clamoroso ma lui lo fece e quell'anno al Milan non andò poi così male 6 mesi dopo però succede qualcosa, lui non allena più il Milan dall'altra parte l'Inter decide di disonerare Rafa Benitez e il giorno della vigilia di Natale lui fa tutt'altro che un regalo ai suoi ex tifosi è il 24 dicembre 2010 quando Leonardo accetta di diventare il nuovo allenatore dell'Inter e il giorno della Befana, il 6 gennaio, altro che scherzetto, dolcetto per i Nerazzurri, scherzetto per il Napoli l'Inter di Leonardo alla prima vince 3 a 1 sarà un'Inter fantasmagorica che nelle prime 13 partite otterrà la bellezza di 33 punti stabilendo un record che mai nessuno aveva fatto superando Fabio Capello con la Juventus nel 2004, Gigi Simoni e Marcello Lippi ma non solo perché nel 22 di maggio del 2011 addirittura vincendo 3 a 1 contro il Catania farà 12 vittorie casalinghe di fila in campionato in 12 partite è il record pari a quello di Invernizzi e di Tanzini Cappelli quell'anno l'Inter arriverà seconda in classifica dietro solamente alla sua ex Milan perderà il derby e tanto gli basterà per non raggiungere i rossoneri in vetta alla classifica nonostante dopo l'esonero di Benitez tutto si pensava tranne che una chiusura così degna a fine anno vincerà una Coppa Italia l'ultimo trofeo se non vado errato dell'Inter prima dello scudetto di Antonio Conte eppure questo non gli basterà a fine anno andrà via e oggi è direttore sportivo del Paris Saint Germain nel mezzo un'avventura all'Antaliaspor nel 2017 4. Alberto Zaccheroni questa è una storia abbastanza complessa perché Zaccheroni come allenatore esplode definitivamente con l'Udinese lì l'Udinese ha lanciato tanti allenatori uno su tutti Luciano Spalletti anzi lo lancerà in quel momento Zaccheroni è un prespalletti il Milan lo vede e decide di puntarci Silvio Berlusconi inizialmente pare essere innamorato di lui e Zaccheroni porta il Milan allo scudetto subito immediatamente al primo anno in uno dei campionati più belli che la nostra Serie A abbia mai visto peccato però che appena due anni dopo la sua assunzione l'eliminazione dalla Champions League per via del pareggio contro il Deportivo La Corugna porterà Berlusconi a cacciarlo con queste parole se hai una buona stoffa devi stare attento a chi la dai Zac se ne andrà con la coda tra le gambe andrà alla Lazio e dopo una stagione non buonissima il 22 ottobre del 2003 subentrerà ad Hector Cooper sulla panchina dell'Inter in realtà quella stagione sarà abbastanza normale l'Inter si qualificherà quarta in rimonta centrerà la UEFA Champions League e lui si dimetterà a fine anno 3. Gigi Radice voi direte sic ma perché sapete benissimo vai a mettere Radice in top 3 ve lo spiego volentieri perché Gigi Radice tifoso del Milan fin da piccolo nasce ufficialmente come giocatore nella primavera del Milan e lì debutta poi va alla Triestina e torna al Milan poi va al Padova e torna al Milan chiude la carriera lì dove l'ha iniziata al Milan e quindi per tutti è un grande tifoso rosso nero poi inizia la carriera da allenatore Monza, Treviso, ancora Monza, Cesena, Fiorentina, Cagliari, Torino, Bologna finché non arriva la chiamata del diavolo ma sono gli anni del post-toto nero il Bologna ha una penalizzazione di 5 punti e il Milan non vive un momento felice quando lui va al Milan non è una buona annata dopo 6 mesi viene già esonerato e quell'anno il Milan retrocederà in Serie B la sua carriera come allenatore quegli anni però è tutt'altro che positiva dopo il Milan andò ad allenare in Serie B il Bari e successivamente prese in carico l'Inter ma arrivò a sesto in classifica e quindi nulla di fatto venne esonerato a fine anno 2. Ilario Castagnier e qui la storia va a toccare qualche elemento un po' particolare per il Milan perché in quegli anni, sempre gli anni del toto nero il Milan si trova in Serie B Castagnier prima di tutto è l'allenatore di un'altra squadra di Serie B la Lazio che deve salire ma che arriva a quarta in classifica pareggiando lo scontro decisivo e rimanendo giù contro il Vicenza a fine anno Ramaccioni, direttore sportivo del Milan chiede a gran voce al presidente Farina Castagnier e viene accontentato quell'anno, voi direte, non è stato eccelso per il Milan ed effettivamente no perché giocavano in Serie B ma quella è la stagione in cui Castagnier e quindi il Milan lanciano Alberigo Evani e Mauro Tassotti due giocatori che faranno la storia del nostro calcio fatto sta che però una volta in Serie A Farina, il presidente Farina, litigherà con Castagnier e deciderà comunque di esonerarlo che poi in realtà in Serie A farà bene perché comunque gli daranno la possibilità di iniziare però verrà comunque esonerato con sei giornate ancora da giocare e allora all'improvviso la stagione successiva, sei giornate dopo si accaserà all'Inter non andrà benissimo anche qui quello è lo storico campionato in cui vincerà l'Ellas Verona l'unica volta in cui vincerà l'Ellas Verona in tutta la loro storia l'Inter si qualificherà a terza però Castagnier farà comunque mediamente bene arrivando fino alla semifinale di Coppa UEFA e perdendo poi contro il Real Madrid in quella famosa partita in cui Beppe Bergo mi prese una bottigliata in testa la stagione successiva venne esonerato dall'Inter dopo dieci giornate fece nelle prime dieci cinque vittorie, tre pareggi e due sconfitte e uno Giovanni Trapattoni beh diciamo che qui la situazione è particolare perché per Trapattoni il Milan è il suo Milan ma al Milan come allenatore Trapattoni non fa bene il Trap esce come giocatore dalla primavera del Milan e poi giocherà nel Milan dal 57 al 71 nel 72 dopo una brevissima parentesi dieci partite con il Varese deciderà di diventare collaboratore tecnico delle giovanili del Milan poi diventerà allenatore ad interim, vice e infine nel 75 ne diventerà ufficialmente il mister in realtà la sua situazione da allenatore del Milan è un po' particolare perché lui non allena mai estremamente con impegno e dedizione il Milan ma perché non glielo permettono tra una volta in cui fa il vice una volta in cui va a vedere i giocatori all'estero come sono come affrontare le squadre una volta in cui c'ha tre persone davanti una volta in cui viene accompagnato comunque non ha mai modo di sfruttare le sue capacità e quindi effettivamente il Trap non riesce a farsi vedere fin quando alla porta non bussa la Juventus con la Juventus Trapattoni vince tutto e con Trapattoni la Juventus vince tutto dieci anni d'oro dove la Juventus diventa la squadra più forte del mondo e poi è il 1986 fine stagione 85-86 Trapattoni aveva già annunciato che se ne sarebbe andato dalla Juventus un po' come ultimamente ultimamente per modo di dire ha fatto Allegri e allora Ernesto Pellegrino presidente dell'Inter bruciò sul tempo Berlusconi che lo rivoleva e se lo portò a casa il Trap divenne il primo allenatore a diventare mister di Inter, Milan e Juventus che poi in realtà è il primo italiano perché qualcuno prima di lui l'ungherese Joseph Viola c'era riuscito allenando la Juventus nel 26 l'Ambrosiana, l'Inter nel 28 e il Milan nel 33 ma era un altro calcio Trapattoni quando va all'Inter lascia tutti a bocca aperta e con i nerazzurri si toglierà anche qualche soddisfazione vincerà quel famosissimo scudetto dei record pensate che addirittura otterranno 58 di 68 punti disponibili un record nell'era dei due punti a vittoria vincerà praticamente tutto ottenendo il campionato con 5 giornate d'anticipo e sconfiggendo qualunque record precedentemente scritto porterà a casa anche una Coppa UEFA riportando un trofeo europeo all'Inter dopo diversi anni Trapattoni all'Inter si tolse delle grandissime soddisfazioni non quanto quelle alla Juventus ma sicuramente meglio di quelle che ottenne al Milan e questi ragazzi erano 5 allenatori che hanno allenato sia il Milan che l'Inter in ottica derby che si giocherà tra poco fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto fatemi sapere se li conoscevate tutti quali conoscevate, quali non conoscevate e quali insomma vi siete pentiti se siete milanisti o interisti di aver perso o di aver avuto iscrivetevi al canale io vi ringrazio per aver visto questo video tantissimi mi piace buociano all'alene come sempre ci vediamo ad un prossimo video ciao 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 ciao